Spero che abbiate capito che il titolo era provocatorio e non voglio togliere nulla alla bellissima Ferragni, ma tuttavia noi pinguine sappiamo che in fondo è vero. Senza C e C++ non avremmo avuto tante delle belle cose che abbiamo oggi, dai cellulare Android ai Unix. Io non avrei avuto il mio Mac, in effetti non avremmo avuto neanche Windows, che sarebbe stato un bene, ma oggi parliamo della storia dei due linguaggi di programmazioni che hanno effettivamente fatto un grandissimo impatto nel mondo della programmazione, ovvero C e C++. Giriamolo come vogliamo, ma sicuramente avete capito dal modo con cui ho aperto questo video che i tre sistemi operativi principali, ovvero macOS, Linux e Windows, sono fatti in C e C++. Molti dei linguaggi di programmazione moderni sono implementati in C e C++, tipo Python o PHP, per non parlare che gli stessi compilatori moderni di C e C++ sono scritti in C e C++. Per parlare della storia di C++ dobbiamo parlare della storia di C, che a sua volta dobbiamo parlare della storia di Unix, ma quello sarà un argomento per un altro video. Oggi mi focalizzo sulla storia di questi due linguaggi di programmazione. Dennis Ritchie, che lavorava presso la Bell Labs, era uno degli sviluppatori del sistema operativo Unix e quando loro sono giunti negli anni 70 alla versione 4, si erano resi conto che il linguaggio di programmazione utilizzato, fino a quel punto per fare il kernel Unix, non andava più bene. E quale linguaggio di programmazione questi nostri eroi stavano utilizzando? Assembly. Assembly, diciamolo, non è famoso per rendere la programmazione di programmi, nella particolare di un kernel di sistema operativo, molto semplice. E quindi loro hanno detto che avevano bisogno di un linguaggio di programmazione moderno. La prima scelta andò su Fortran, ma non andò benissimo. C'era poi quest'altro linguaggio di programmazione chiamato Basic Combined Programming Language, BCPL, che l'avevano scelto come alternativa ad Assembly. Poiché non avevano a disposizione un compilatore, hanno iniziato a farselo. Tuttavia all'epoca le specifiche di BCPL non erano disponibili. E quindi cosa fecero? Poi c'era un linguaggio di programmazione che assomigliava togliendo un po' della verbosità che questo linguaggio di programmazione aveva. E chiamarono questa, diciamo, versione customizzata di BCPL, semplicemente B. Anche questo nuovo linguaggio di programmazione B aveva i propri disagi, che possiamo riassumerli con una sola frase. Semplicemente non era performante abbastanza, ovvero i programmi fatti risultavano essere lenti. E quindi Dennis Ricci, nel 71, si mise là rimbolcandosi le maniche per migliorarlo. Chiamarono questa nuova versione di B, New B, quindi Nuovo B, e il suo collega Ken Thompson lo utilizzava per fare il kernel di Unix. Ma i due non si trovavano in due posti o mondi separati. Erano a stretto contatto, collaboravano allo stesso progetto. E infatti Ken suggeriva a Dennis sempre delle nuove caratteristiche da aggiungere al programma. Per esempio, nel 72, il nuovo linguaggio di programmazione B aveva gli array di int e di caro, di charo, come dir si voglia. Poi spuntarono i puntatori e successivamente, con un po' di zucchero e cannella e ogni cosa bella, boom! Spuntò quel linguaggio di programmazione che oggi noi chiamiamo C. E il motivo per cui si chiamava C era semplicemente perché la lettera C era la lettera successiva alla B. Nel 1979, Steven Johnson fece quello che passò alla storia come il Portable C Compiler, PCC, dicendo che l'aveva fatto con la benedizione di Dennis Ritchie. Che cos'è questo Portable C Compiler? Ma lo vediamo dopo la sigla! Benvenuti e benvenuti da Pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia dei linguaggi di programmazione più influencer nella storia, ovvero C e C++. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo lanale e inoltre seguitemi su Instagram, qui c'è il mio tag e quindi non perdiamo i cinghiacchere e proseguiamo con la storia di C e C++. Il Portable C Compiler può essere definito come il vero primo compilatore C che permetteva, con qualche modifica, di compilare il codice scritto in C in qualsiasi architettura, o meglio, quelle architetture che esistevano all'epoca. E infatti, per via di questa caratteristica, C diventò veramente influente nel mondo dei programmatori in pochissimo tempo. Cioè, PCC veniva utilizzato come base per sviluppare altri compilatori C. A questo punto della storia abbiamo C, è un compilatore che tutti amano, ma manca un ingrediente fondamentale per la storia di questo linguaggio di programmazione, ovvero i programmatori. E infatti, l'anno prima del 78, Brian Kernighan con Dennis Ricci hanno scritto la prima edizione del libro, The C Programming Language, che settava le specifiche principali di questo linguaggio di programmazione. Ovviamente il C, come descritto da questa prima edizione, non è lo stesso linguaggio che c'è arrivato ad oggi. Infatti veniva chiamato il KNRC, ovvero il linguaggio C di Kernighan e Ricci, che tra le altre cose aveva, tipo la libreria standard per l'input-output, ovvero quello che noi conosciamo come STTIO, e aveva anche aggiunto dei tipi di dati primitivi, quali il long e l'unsigned int. Gli anni passano e il PCC continua ad evolvere, aggiungendo altre caratteristiche nel linguaggio di programmazione C, quale per esempio le funzioni void, ovvero funzioni che non restituiscono nulla. Hanno anche aggiunto la possibilità di far restituire alle funzioni tipi di dato complesso, quale struct e union, e hanno anche aggiunto le enumerazioni. Sì, stava diventando veramente popolare e veniva utilizzato in una marea di mainframe, minicomputer, tutto quello che esisteva all'epoca. Era talmente così importante che l'American National Standard Institute si mise nel mezzo per cercare di standardizzare il linguaggio di programmazione. Dopo circa 5 anni di lavoro e diverse bozze che vennero preparare negli anni, nell'89 riuscirono a pubblicare il vero primo standard C, che infatti ad oggi viene chiamato ANSI C oppure C89, perché questo standard fu rilasciato nell'89. Adesso diremmo che la storia sia finita, ma in realtà siamo solamente a metà strada. Dobbiamo fare un passo indietro. Siamo in Danimarca, nella città di Horus, città che ho avuto il piacere di visitare durante il mio Erasmus, circa 13 anni fa. Ad Horus c'era un giovane programmatore danese chiamato Björn Stostrup. Lui si laureò presso l'Università di Horus al Dipartimento di Matematica e Informatica. E lì ebbe l'occasione di conoscere Kristen Nigard. Non sapete chi è Kristen Nigard? Andatevi subito a ricoprare questo video, perché è una parte centrale per la storia che vi sto per raccontare. Avendo avuto a che fare con Nigard, Stostrup fece la sua tesi di laurea che parlava di programmazione rinata ad oggetti. E infatti si riuscì a laureare nel 1975. Successivamente se ne andò a Cambridge per prendere il suo dottorato, per poi andare a lavorare presso la Bell Labs nel 1979. Viste la sua esperienza con la programmazione ad oggetti, Stostrup iniziò a modificare C per raggiungere le classi. E chiamò questo, diciamo, nuovo linguaggio di programmazione C with Classes. Che fantasia! Nell'82 Stostrup iniziò a sviluppare quello che oggi conosciamo come C++, raggiungendo l'era di verità, la tipizzazione forte e tante altre belle cose che ci ritroviamo fino ai giorni d'ostri. Doug McRoy, che era un collega di Stostrup, suggerì a ragazzo, non so se era più ragazzo all'epoca, comunque, quando bisognava stampare qualcosa allo schermo o di prendere degli input da tastiera, di utilizzare un operatore specifico, anziché di fare, come si faceva in C, una chiamata a una funzione. Ed è per questo motivo che oggi ci ritroviamo con queste cagate. Nel 1985 pubblicarono il libro chiamato The C++ Programming Language, che aveva lo stesso scopo di quello fatto da Richie qualche anno fa, ovvero una prima documentazione seria di questo nuovo linguaggio di programmazione. Ma tuttavia, un compilatore ancora non era disponibile, ma infatti fu rilasciato all'ottobre di quell'anno. Nel 1989 venne rilasciato la versione di C++ 2.0, e infatti questa venne accompagnata anche dalla pubblicazione della seconda edizione del libro. Questa nuova versione di linguaggio di programmazione C++ includeva altre tante belle cose, tipo eredità multipla, classi e metodi astratti, e anche la possibilità di avere proprietà e metodi protetti. Lo sviluppo di C++ era stato guidato da diversi principi, che adesso vi andrò a leggere uno a uno. Nuove funzionalità devono risolvere problemi veri. Ogni caratteristica del linguaggio deve essere implementata nel modo più ovvio. I programmatori devono scegliere il loro stile di programmazione, e questo stile di programmazione che loro scegliono deve essere pienamente supportato dal linguaggio di programmazione. Avere una nuova caratteristica è più importante dal prevenire qualsiasi uso improprio del linguaggio di programmazione C++. Non so bene qua a cosa si riferiscono, ma andiamo avanti. C++ deve avere dei modi per avere programmi organizzati in parti separati e ben definite. Nessuna violazione implicita dal sistema di tipo è permessa, tranne quelle che il programmatore dice esplicitamente, quindi suppongo che qua si riferisca ai cast. I tipi creati del programmatore devono avere lo stesso supporto e performance dei tipi già presenti nel linguaggio di programmazione. Caratteristiche non utilizzate non devono avere un impatto su eseguibili già compilati. Non ci deve essere alcun linguaggio di programmazione all'isoto di C++, ad eccezione di Assembly. C++ deve essere in grado di lavorare con altri linguaggi di programmazione, invece che creare il proprio ambiente di programmazione separato e incompatibile. Se le intenzioni del programmatore sono sconosciute, permette al programmatore di specificarlo tramite il controllo manuale. Anche qua so che cosa si riferisca. C++ si è poi evoluto e vennero pubblicati man mano diversi standard, che adesso io non mi dileguo su tutti questi, ma ve li metterò qui a schermo. Il numeretto che sta là si riferisce alla data di pubblicazione. Attualmente si sta lavorando allo standard C++ 23. Tuttavia, mentre C++ si evolveva, sì, no. E quindi si decise di migliorarlo importando alcune delle caratteristiche che C++ includeva. Facciamo questo esempio. Anzi, sì, che era quello che era disponibile fino a quel momento, non permetteva di creare variabili in qualunque punto di una funzione. Infatti, con anzi sì, le variabili vanno dichiarate all'inizio della funzione. Quando venne pubblicato lo standard C99, questa limitazione venne tolta, ma vennero introdolte anche altre cose, come il long long indie o gli array a lunghezza variabile. Ora, quando mi riferisco agli array di lunghezza variabile, non mi riferisco al fatto che si possono dichiarare array e cambiare la sua dimensione in maniera dinamica durante l'esecuzione di un programma, ma mi riferisco al fatto che è possibile dichiarare un array di una lunghezza fissa cui lunghezza non è definita da una costante, ma ben sì di una variabile. Prima con anzi sì, questo non era possibile. Per avere degli array che hanno una dimensione dinamica durante il runtime di un programma, si fa tramite la locazione dinamica e quella è tutt'altra storia. Spero che questo dettaglio sia chiaro. Qualora non lo fossi stato, scrivetelo nei commenti. E anche per sì, si sono susseguiti tutta una serie di standard che, come dicevo poco fa, non mi dilungherò molto e ve le metto qua a schermo. Adesso si lavora lo standard C2X, in cui X sarà la cifra finale dell'anno in cui verrà pubblicato, ma molto propriamente sarà anch'esso C23. Wow! Che storia, pinguini! Vi avevo detto che i C e C++ sono stati e sono tuttora dei linguaggi di programmazione che sono effettivamente, almeno nel nostro mondo, più influenti della Ferragni. Vorrei fare un video in cui metto a confronto i diversi standard, ma fatemi sapere nei commenti se è qualcosa che vi possa interessare. Se vedo che c'è un certo interesse sia nei commenti ma anche nei like che mi lasciate in questo video, penserò che non solo vi sia piaciuto questo, ma che volete anche un video di Codecademy in cui metto a confronto i diversi standard di C e C++. E quindi, pinguini, io vi ringrazio come sempre per aver guardato fino a questo punto e vi rimando agli altri video di FKStoria in cui ho parlato di storie di anche altri linguaggi di programmazione come Python, che sono sicuro che molti di voi, anche se so per cento non tutti, piace. E quindi, di essere ancora preattenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!